Roma incontra protagonisti e fatti della grande attualità un programma ideato e condotto da Enrico Cisnetto Buonasera, buonasera, bentornati a Roma incontra prima di tutto mi devo scusare per lunedì scorso non c'è stata Roma incontra a causa neve, quattro dita ma tanto è bastato per bloccare Roma e i trasporti tra il nord e il sud del paese avevamo tre dei quattro ospiti che venivano da Milano e non sarebbero mai arrivati questa è l'Italia, la stessa Italia che è andata alle elezioni e ha punito i colpevoli senza però porsi la domanda se chi premiava in alternativa sarebbe stato, sarà, capace di mettere a posto le cose la mia personale risposta è che no, non sapranno risolvere i problemi tantomeno affrontare le cause strutturali del nostro declino probabilmente non riusciranno neppure a mettere insieme una maggioranza di governo perché vedete, se da un lato è del tutto certo il risultato politico del voto vincono alla grande i 5 stelle e la Lega di Salvini crolla il PD e perde Forza Italia seppellendo forse definitivamente Renzi che si è appena dimesso da segretario del PD e Berlusconi dall'altro lato però non sono per nulla chiare le conseguenze del voto non voglio anticipare nulla delle valutazioni che faremo con i tanti e qualificati ospiti stasera ma mi pare evidente che la palla che passa a Mattarella sia più che altro una patata bollente perché il Presidente della Repubblica avrà di fronte uno scenario in cui non solo non c'è partito o coalizione che abbia i numeri necessari ma all'orizzonte non si vede neppure una qualche alleanza o anche piccola convergenza che possa risolvere il rebus della maggioranza di governo ed è per creare le condizioni perché in Parlamento si formi un governo che in una democrazia si va alle elezioni mica per dar sfogo alla rabbia per quanto sia giustificata di solito si dice che gli elettori abbiano sempre ragione Max Weber replicava questa affermazione dicendo invece che in quanto esseri umani possono sbagliare gli elettori ma se accade è perché vengono imbrogliati e ciò dipende dalla qualità della loro preparazione politica o meglio dalla preparazione politica delle loro classi dirigenti ma sentiamo cosa ne pensano i nostri primi due ospiti di cui vi voglio sottolineare i libri uno già uscito e uno che uscirà fra poco il primo è Giampiero Mughini autore per Bonpiani del libro Che profumo quei libri? La biblioteca ideale di un figlio del Novecento prego Mughini Ciao Enrico Ciao Ciao Enrico E il secondo è il professore merito di scienza politica all'Università di Bologna che fra poco uscirà per Bocconi Editore Bocconi Università Editore con un saggio che si chiama Deficit Democratici Cosa manca ai sistemi politici, alle istituzioni e ai leader Gianfranco Pasquino Eccolo Allora Allora Io so che tu sei arrabbiato nero Ti manca Ti manca la fascia Se questo scuro fosse qua era una fascia a lutto Arrabbiato non è il termine giusto però a lutto sì a lutto per il mio paese non perché io abbia un qualche interesse interesse nel senso profondo del termine per la lotta dei partiti in Italia in questo momento ma mi sento a lutto per un paese di cui un giornale tedesco ha detto un paese di bambini che eleggono dei pagliacci E ahimè 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 Aggiungo un altro elemento diciamo che per me è grave Io sono siciliano Io ricordo vent'anni fa la Sicilia che su sessanta votazioni nel senso che credo fossero le amministrative quindi erano sessanta circoscrizioni amministrative ne diede sessanta Berlusconi adesso su non ricordo quanto quante circoscrizioni elettorali le ha date tutte ai 5 stelle io francamente non fosse per Pirandello e per Sciascia mi vergogno di essere siciliano ecco Pasquino tu invece che da quale sentimento sei animato di fronte ai risultati elettorali Enrico probabilmente l'hai già sentita questa battuta che vero è vera il cittadino è perplesso inquieto forse anche preoccupato lo scienziato della politica non può desiderare niente di meglio con un casino di questo genere mi offre enorme opportunità analitiche di lavoro esatto mi fa mi rende molto sei speculativamente contento ricevo richieste di interviste da tutto il mondo persino da un giornale giapponese e gli ho detto mi mandate il pdf me l'hanno mandato però sono gentili perché hanno messo evidenziato il mio cognome in giallo e continuo a leggerlo ma so che sono libero senti ma visto che il titolo del tuo libro parla dei defici democratici questo voto è la spia di quale livello di defici democratici siamo arrivati ma ti ho ascoltato parlare degli elettori naturalmente gli elettori non hanno sempre ragione lo diceva anche Max Berger sì certo ma lo diciamo anche noi perché abbiamo imparato nel 33 l'essero Hitler sì adesso proprio l'essero non è corretto no esatto dietro la maggioranza dietro la maggioranza no 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 aspetta non la maggioranza ruta gli delano una consistente maggioranza relativa sì consistente maggioranza relativa poi gli elettori hanno in qualche modo tanto da indurre sì a chiamarlo comunque gli elettori non hanno sempre ragione questo è sicuro sbagliano sbagliamo anche noi quando analizziamo il loro comportamento in questo caso però una parte cospicua dei elettori sono facilmente comprensibili e giustificabili sono profondamente insoddisfatti di come funziona questo sistema politico profondamente irritati dai comportamenti della classe politica e vanno laddove pensano che ci siano critiche e insoddisfazioni trasferibili in qualcosa di meglio vanno dallo scienziato Salvini in parte dallo scienziato Salvini perché è uno di loro lo scienziato Salvini cioè fa campagna su un territorio conosce bene quel territorio in parte dal momento 5 stelle perché il momento 5 stelle esprime questa insoddisfazione poi loro capiscono anche che quelli non sanno granché però tutto sommato magari fanno meno guai di quelli che sanno granché Ma mi perdoni professore io una volta ho dovuto fare un intervento chirurgico piuttosto importante non le dirò quale non mi sono rivolto ad una faccia nuova ad un giovane promettente a un semi-analfabeta che voleva migliorare mi sono rivolto a un primario che l'ha fatto 700 volte quella operazione perché quello che vale nella medicina non dovrebbe valere in politica non vale in politica perché la politica non è così come dire esigente su tutte queste cose perché parecchi di quelle delle 5 stelle qualcosa hanno imparato e perché poi quando si entra in Parlamento o si arriva al governo ci sono straordinari funzionali sia al Parlamento che al governo e quindi una parte dei lettori pensano che tutto sommato quelli lì vanno lì e poi qualcosa imparano e comunque non possono fare peggio di quelli che sostengono di sapere fare meglio beh però mi perdoni anche su questo professore fare peggio tutto sommato l'Italia è riuscita con una serie di governi di Ro Monti di Ro Renzi di Ro Gentiloni a a diciamo così no tenere il passo anzi a uscire da una crisi drammatica drammatica a migliorare molti indicatori eccetera quindi non è che siamo in Siria e loro intervengono a risolvere non credo non mi pare Mughini mi sta spingendo in una direzione dove non posso andare completamente però se io fossi un siciliano di 22 23 24 anni che è 3 o 4 anni che cerco un posto di lavoro e non lo trovo sarei insoddisfatto io sono stato un siciliano di quel genere sono venuto a Roma con 6 mila lire in tasca non mi sono rivolto ai partiti no no ma questo non si rivolge ai partiti vota le 5 stelle perché gli fanno una promessa che gli altri non hanno soffitto ma le promesse non costano nulla no ma il punto è che gli altri non le hanno fatte e non le hanno mantenute il reddito di inclusione a prometterlo non costa nulla se io fossi un napoletano che mi trovi in una situazione di insicurezza anche fisica e questi mi diranno o magari qualcuno che deve ricorrere alla corruzione cioè ci sono elementi che spiegano attenzione spiegano vuol dire che giustificano però le proposte degli altri erano inadeguate ma poi secondo te quanto tempo ci si mette a pentirsi di aver fatto una scelta diciamo di pancia chiamiamolo 5 anni per pentirsi 5 anni magari ma sai se uno è un uomo di coscienza e di realtà con se stesso io a raschiare da me stesso il ragazzo acerbo e che era convinto di poter dare risposte compatte ultimative a tutti i problemi della società industriale a raschiare da me stesso quel ragazzo acerbo ci ho messo 10 anni perché qui si tratta di raschiare io non seguo sino in fondo una persona che stimo come il professor Pasquino perché qui c'è si spiega il voto certo che si spiega ci metterebbe altro però c'è un subculturame che agisce profondamente il populismo è animato da un subculturame che agisce profondamente l'idea che lo Stato deve darti qualcosa anzi deve darti parecchio anzi che lo deve dare a tanti ma dove uno Stato che è il 132% di debito pubblico c'è un debito che abbiamo noi mi pare che 35.000 a testa se non sbaglio o no i nostri figli compresi quelli piccoli sì su quello naturalmente le 5 stelle sono criticabili però la politica non è fatta soltanto di numeri soltanto di qualche cosa che si aggiunge si toglie e così via è fatta anche di emozioni e le 5 stelle hanno interpretato anche una parte emotiva del paese che c'è quando lei si trasferiva dalla Sicilia a Roma il paese stava crescendo e adesso cresce intanto così siamo alla crescita più bassa di tutta l'Unione Europea ma c'è una rivoluzione tecnologica che sta distruggendo i vecchi lavori questo non è colpa di Renzi non è colpa di Renzi ma Renzi con il tono con cui diceva che avrebbe risolto i problemi spesso mentendo è riuscito a distruggere un partito qualcosa non da poco stasera è riuscito a dare è riuscito a dare giusto aspetta l'applauso è per Renzi per la distruzione del partito era a te che l'hai detto diciamo che stasera è riuscito pur dimettendosi nel dare la colpa a Mattarella dice se fossimo se avessimo ascoltato avessimo votato prima le cose sarebbero andate diversamente mi sembra una poerile giustificazione ma a questo punto il diciamo le speranze riformiste chiamiamole così per capirci sono seppellite o qui bisognerebbe discutere di molte cose che si tengono insieme ogni volta che c'è un presidente conservatore negli Stati Uniti la spinta riformista in Europa viene meno ogni volta che c'è un presidente progressista cresce la spinta riformista nel frattempo la sinistra europea si è in qualche modo molto indebolita dappertutto fra parentesi vi ricordo che Martin Schulz avendo perso le elezioni disse non faremo la grande coalizione e poi ha fatto la grande coalizione lo dico perché nel frattempo approvata dalla grandissima parte della popolazione con un metodo democratico lo dico perché nel frattempo i renziari dice andiamo all'opposizione non andate da nessuna parte guardate quale sarà l'offerta perché c'è anche un comportamento responsabile nei confronti del paese se siete necessari a fare un governo decente e a costringere le 5 stelle se saranno loro la controparte a comportarsi in maniera decente lì dovete stare non stare a guardare che cosa succede non va bene io credo che ci sarà un governo io ti leggo sempre con grande attenzione Enrico grazie e mi diverto da morire per come scrivi però qui la situazione è come dire è tutta nelle mani di Mattarella che è un uomo colto è un uomo saggio è un uomo equilibrato è un uomo paziente posso aggiungere anche che è un siciliano è un siciliano e quindi conosce molte astuzie anche nel senso buono della parola però adesso ci voglio arrivare perché poi naturalmente nello sviluppo della serata ci consentirà di ragionare anche molto sulle conseguenze del voto voglio ancora soffermarmi sul voto in quanto tale Giampiero il PD alle politiche del 2013 prese 8 milioni ragioniamo sui numeri valori assoluti perché poi le percentuali sono un po' ingannevoli prese 8 milioni e 600 mila voti all'europe 11 milioni e 200 mila voti questa volta 6 milioni 6? 6 milioni quindi 6 milioni contro 8 e 6 e contro 11 e 2 contro l'europe siamo quasi alla metà e quei giovanotti di liberi ed uguali quanto hanno preso? poco e niente non coprono la differenza non coprono la differenza quindi non si può hanno preso il 3,3 adesso non so quanto vaga in termini di numeri assoluti forse ce l'ho scritto sì no 1 milione e 1 quindi c'è un deficit netto di elettori sono avvenute credo due cose indubbiamente Renzi è riuscito in un'operazione ciclopica cioè distruggere un patrimonio che alle europee gli era secondo me meritatamente piombato sul capo e che era un patrimonio tu hai detto 11 milioni e passa e lo ha distrutto sicuramente per i motivi che sono stati già sottolineati dal professor Pasquino eccetera quel modo impudente stupidamente aspro stupidamente rottamatorio eccetera con cui lui tratta sia i suoi compagni di partito che non sono genuflessi sia i suoi interlocutori questo è però l'altra c'è un'altra cosa che quel subcultura quella subcultura io quando sento il professor Tommaso Montanè no quando ho sentito l'ex presidente del senato Pietro Grasso uno che sino a pochi sì ecco una delle notizie buone della giornata forse l'unica è che lui e Laura Boldrini non metteranno mai più piede nel Parlamento questa è una notizia buona in che senso non vorrei che voi mi fraintendeste io trovo allucinante che un presidente del senato si candidi o si autocandidi a quattro mesi dalle elezioni eccetera essendo ancora presidente del senato dove è stato nominato da un partito al quale peraltro non ha pagato le quote ma non importa cosa stavamo dicendo stavamo dicendo che c'è questa cosa il professor Tommaso Montanari la sinistra questo bisogno ma che cosa vuol dire io non credo la parola la parola sinistra abbia il ben che minimo significato oggi che vuol dire dunque credo rispetto al pubblico di trovarmi a destra e quindi non è il mio luogo dovrei essere seduto lì ma la sinistra e qui naturalmente 50 sfumature di sinistra si può dire così la sinistra anche di più volendo storicamente vuol dire cercare di ridurre le diseguaglianze vuol dire credere nell'utilizzare lo stato per ridurre le diseguaglianze e non il mercato che invece crea diseguaglianze vuol dire cercare di provvedere ai bisogni dei cittadini in una maniera decente e non affidarsi invece per esempio al merito e così via queste differenze ci sono ancora se uno guarda che cosa dicono quelli che sono rimasti di sinistra queste differenze esistono ancora il problema è che per elaborarle bisogna avere una cultura politica e quello che è scomparso nella sinistra italiana è la cultura politica scompare quando dicono loro che avrebbero fatto questo partito democratico che era il meglio delle culture riformiste allora i comunisti non avevano granché di cultura riformista ma sostengono di sì avevano criticato le socialdemocrazie e fino in fondo non potevano diventare socialdemocratici i cattolici democratici avevano una cultura riformista anche gli ambientalisti che però sono pochissimi nel frattempo Renzi è riuscito a non candidare Realacci che invece è un vero ambientalista e soprattutto fanno un partito democratico il meglio delle culture riformiste non ci sono i socialisti che sono stati la vera cultura riformista di questo paese a cominciare dal centro-sinistra ma poi anche dopo e quindi a questo punto il problema della sinistra non è tanto di riacquistare voti di riacquistare idee di riuscire a produrre una cultura politica sì ma certo una cultura politica al momento che cosa abbiamo? abbiamo che la sinistra cosiddetta energica insomma è rappresentata da Tommaso Montanari con tutto il rispetto da quello lì dall'ex magistrato in groia come si chiama? potere al popolo io pensavo che queste espressioni per un motivo di eleganza elementare non si potessero più usare perché io queste puttanate le ho sentite quando ero giovane e i nostri i nostri i miei coetanei fecero le sfilate sotto Stalin e Mao servire il popolo ma le fecero in Italia le fecero in Francia io ho vissuto a lungo in Francia sempre Stalin e Mao allora la sinistra la cosa è Cobin? Cobin è un uomo che si può presentare in un consesso di persone che hanno superato la quinta ginasio ma la sinistra di Blair che fine ha fatto? non dico solo in Italia in generale lui ha fatto quel grandissimo errore di dire sì alla guerra in Iraq sulla base di una enorme falsificazione delle cose uno che fa un errore del genere in politica la paga quella guerra siamo andati a fare la prima guerra in Iraq la seconda voglio dire insomma quella che ha creato questo dissesto gigantesco attizzando la riscossa musulmana e fanatica quello è stato un errore di proporzioni gigantesche ed era su una base di fatto falsa falsa quel dittatore maledetto non aveva nessuna arma micidiale così come io non credo che ce le abbiano gli iraniani le armi micidiali anzi penso di no anzi penso che ha fatto benissimo Obama io sono sempre per la trattativa io sono per tutti gli inciucci del mondo perché gli inciucci termine degli analfabeti inciucci sono i patti in politica si fanno patti durante la resistenza la politica è mediazione le SS i capi partigiani facevano patti per scambiarsi i prigionieri il più bel romanzo sulla resistenza che si chiama una questione privata che io raccomando nel mio libro nasce da questo dal tentativo di scambiare un prigioniero con un altro ecco Giampiero scusa visto che parliamo di deficit di cultura politica se uno magari eletto 5 stelle o con la Lega volesse leggere no un eletto 5 stelle non prende in mano quel libro no ma come supponiamo impossibile supponiamo dai dai impossibile supponiamo è una è una sfida temo che ci siano degli eletti 5 stelle che leggono anche quel libro senti facciamo una cosa tiragli fuori una pillola e dice andate a pagina e togliete e leggete qual è il libro che sta nella tua biblioteca ideale che sarebbe bene che quelli che sono entrati in Parlamento diciamo tutti quelli che sono entrati in Parlamento senza distinzione un migliaio di libri non uno un migliaio di libri tirane fuori uno no no uno no assolutamente naturalmente commovente era un libro facile da citare e infatti ho esitato a lungo perché questo libro è una storia del mio paese è la mia autobiografia sentimentale raccontata attraverso tot libri saranno una settantina ciascuno ho tentato di raccontarlo come se fosse una radiocranica sportiva cioè come se che non ti è difficile una gara sì allora un libro che non era tutti lo hanno letto lo conoscono era le lettere dal carcere di Gramsci ma che cos'era commovente di quel combattente politico che aveva perduto di questo combattente politico che aveva perduto era commovente che lui lì dentro la galera dormendo poco acciaccato in tutti i modi leggesse studiasse articolasse cercasse di articolare l'egemonia possibile capisse l'orrore che stava nascendo lì dall'altra parte lì sul il comunismo reale eccetera e poi i suoi compagni i suoi compagni di prigione anche questa cosa che viene raccontata raramente gli lanciavano dei sassi senti ti faccio una proposta domani mattina sì metti in una busta il libro non il tuo quello io poi non mando il mio libro a nessuno no non il tuo le lettere di Gramsci e mandale a Renzi che magari potrebbe essere che gli fa bene ah le mando a Renzi le fa bene potrebbe fargli bene se ti costa un acquisto più le spese di spedizione per la democrazia questo è altro hai ragione mentre tu potresti mandargli appena esce il tuo prossimo perché lì parli del fatto che cosa manca ai sistemi politici alle istituzioni e ai leader se lui lo legge quella parte che riguarda i leader e lo dovesse capire per caso che cosa quale quale diciamo evidenza trarrebbe rispetto a se stesso non lo so vorrei ancora vorrei avere ancora un applauso del pubblico ma se dico sul punto come la penso io ho presentato almeno tre libri con un autorevole politico che nel frattempo è stato sconfitto nel suo collegio che leggeva quei libri e cioè D'Alema legge libri devo comunicarvelo D'Alema legge libri ma questo era fuori di dubbio sì ecco mentre di Renzi non posso dire la stessa cosa e quindi se devo mandare il libro a qualcuno lo mando D'Alema non lo mando D'Alema se lo compra mentre di Renzi è difficile che magari ti venga ma comunque di che cosa sono qual è il deficit maggiore non di Renzi dei leader di oggi no il deficit maggiore dei leader in Italia che non leggono i libri e di non capire che il leader non è soltanto qualcuno che guida ma è qualcuno che crea il consenso intorno a una decisione e non intorno a sé intorno a una decisione cioè che individua i punti di contatto i compromessi che riesce a tradurre quei compromessi e non li chiama in ciucci in politica e non li chiama in ciucci e anzi che cerca di usare un linguaggio che è un po' al di sopra del linguaggio contemporaneo il leader visto che parliamo di cose contemporanee e Churchill come parla gli inglesi in quello splendido film che è uscito in questi giorni che vi consiglio di vedere perché è veramente così come il libro che va bene grazie di questo primo blocco grazie a Gianfranco Pasquino di essere stati con noi diamo una mano al picco alla pubblicità e proseguiamo con altri due ospiti bentornati a Roma incontra allora proseguiamo nell'analisi di quello che è stato il voto di ieri e delle sue conseguenze con altri due ospiti il primo è Gabriele Albertini già sindaco di Milano benvenuto e poi il costituzionalista autore di un romanzo adesso ne parleremo che si chiama Arisa per la nave di Teseo Michele Ainis ciao è caduto il romanzo è caduto il romanzo ma toglimi prima di tutto una curiosità ma che ti sei messo a fare i romanzi adesso com'è sta cosa come si potrebbe invertire no perché ti si metti a occuparti di diritto quando è molto più importante occuparsi di lettere perché l'hai fatto fino a prima comunque molto molto intrigante e siccome tra l'altro parla della Sicilia a proposito delle dichiarazioni prima di Mughini insomma la Sicilia quella sopra quella sotto adesso ne parliamo ha fatto anche un altro di romanzo sono recidivo è vero una cosa un po' esoterica particolare hai capito vedi come ti segue Gabriele una curiosità un giurista che scrive un romanzo con quelle ci sono dei precedenti molto più bravi di me uno Fussatta per esempio senti Gabriele ma come mai non sei candidato perché ti sei tolto tu o perché qualcuno ha preferito ma una cosa a metà nel senso che qualcuno mi ha detto cosa avrei voluto fare ho detto ma sì va bene ho qualche legge in sospesa in particolare una a cui tengo molto che spero i colleghi sviluppino che è una legge che consente agli innocenti di poter essere risarciti per le spese legali cosa che accade per 90.000 persone all'anno questo è un argomento c'è l'ingiusta detenzione ma non l'ingiusta imputazione come risarcimento mi hanno chiesto io ho detto ma sì se volete sono disponibile però non mi fate sgomitare più di tanto perché ho già fatto e loro mi hanno tolto il problema perché hanno fatto delle scelte dal loro punto di vista cioè dei capi di partito molto appropriate poi ha preso l'uno e mezzo quindi non avrei cambiato niente insomma non avrei potuto essere messo in un collegio uninominale dal momento in cui il capo partito si è messo lui cioè Lupi si è messo giustamente nel sedio nel seggio dove doveva essere seduto senti ma ho letto prima del voto che eri incerto se votare o meno Berlusconi alla fine cosa hai fatto se si può aspetto a dirlo aspetto che mi sia ripreso dalla scelta che ho fatto sì perché è una scelta che non ho mai fatto prima con ciò un po' l'ho fatta o ho alluso non mi direi che hai votato Salvini no Salvini no però insomma ancora più là no 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 allora più qua la Bonino la Bonino va bene la Bonino va bene la Bonino perché alla fine l'ho votata pure io la Bonino però doveva stare sopra il 3% l'ideologia lo so e infatti mi sarebbe piaciuto non ci sono più le ideologie non ci sono più i partiti restano le persone si spera e tra le persone in campo quella che mi sembrava più rispettabile con un itinerario lucido coerente non ha preso uno spillo pur essendo in ruoli di responsabilità ministro degli esteri poi commissario insomma nessuno ha avuto da dire su come è amministrato anche quando ha avuto disponibilità perché se si sta in un convento forse il voto di castità si può anche consentire ma insomma il potere l'ha avuto e quindi concludendo ecco il voto che ho fatto è stato per lei io non so se tu vuoi fare outing sul tuo voto ti chiedo però se sei soddisfatto del risultato di aver dato il voto che hai dato dicevo io ho votato due volte nel senso che mi è toccato la prima volta ho trovato una barriera umana c'era un'ora e mezza di fila non ho votato due volte sono andato due volte a votare al seggio questo mi sembra un elemento che non è stato sottolineato ma di quasi eroismo civile degli italiani che si sono per via di quell'affare da staccare che ha rallentato tutto e della disorganizzazione che ci caratterizza in tutte le nostre manifestazioni diciamo organizzate era fatto con delle buone intenzioni però quella procedura un po' più complessa per evitare il cambio delle schede la strada dell'inferno è la stricata di buone intenzioni vero anche questo però l'hai detto per evitare di dirci cosa hai votato oppure beh il voto è personale è uguale libero e segreto da buon costituzionalista ma invece in termini di analisi di quello che è stato no il tuo ma il voto di tutti gli italiani ma allora non mi sembra questo terremoto c'è questa questa grande sorpresa e sconvolgente novità perché rispetto al 2013 c'era una forza politica che era il primo partito ed erano i 5 stelle e lo sono di nuovo hanno semmai irrobustito i propri consensi c'era una diciamo tripolarità che a mio giudizio è quello il momento in cui noi entriamo nella terza repubblica quando dal sistema bipolare che ha caratterizzato la seconda che a sua volta aveva sostituito un sistema multipolare nella prima arrivano tre poli e cambia tutto io lo sognavo diverso la terza repubblica che ho sempre auspicato però se mi dici che quella era la terza perché di fatto è cambiato il sistema politico dovrò auspicare la quarta a sto punto e quindi scusa ti ho interrotto ma era più forte di me no non lo so in questo sistema conta il voto ma conta soprattutto il dopo voto mi pare perché dato che non vince nessuno ti trovi con tre grandi minoranze poi adesso qualcuno è più diciamo minoranza rispetto al passato ma nessuno ha i numeri per formare da solo esprimere da solo un governo e allora conta che cosa conta la capacità di coagulare consenso e quindi adesso si decide la partita contano i movimenti parlamentari la legislatura passata è potuta durare per 5 anni ma all'inizio se vi ricordate tutti dicevano ecco lì chiuderanno i battenti in tempo due mesi invece è durata è durata perché si sono staccati dei gruppi dal partito in cui erano stati eletti prima Alfano e poi Verdini e via via Bersani perché c'è stata anche una forte transumanza parlamentare di individui 566 cambi di casacca questo ha consentito di esprimere dei governi mai guidati dalle persone che avevano chiesto il voto come candidati in pectore per la presidenza del consiglio e che la volta scorsa erano Berlusconi erano Monti erano Grillo ed era Salvini l'altro nessuno di loro ha fatto il presidente del consiglio probabilmente anche stavolta accadrà una cosa però scusa Michele tu stai dicendo che non è stata una gran rivoluzione però non guardando le percentuali che sono sempre un po' forvianti ma guardando i numeri assoluti e alle politiche del 2013 il PD aveva 8 milioni e 6 milioni di voti e ne ha preso 6 milioni quindi ha perso 2 milioni e 600 mila voti i 5 stelle viceversa avevano 8 milioni e 7 quindi l'altra volta erano lì più o meno pari un po' più avanti ma più o meno pari e ne hanno preso 10 e 6 quindi c'è stato diciamo il PD ha perso 2 milioni e mezzo di voti di cui 2 milioni e sono andati ai 5 stelle a quanto sembrerebbe e soprattutto a destra Forza Italia aveva 7 milioni e 3 i voti per la verità era il PDL in quanto tale ne sono rimasti a Forza Italia 4 e mezzo la Lega aveva 1 milione e 4 e sono diventati 5 e 6 quindi i flussi sono importanti non sono proprio sì però invece le conseguenze politiche sono ancora tutte da scrivere sono tutte da scrivere e a me pare di leggere intanto se guardiamo i numeri probabilmente c'è stata una donazione di sangue diciamo a fuori dei 5 stelle da parte di elettori di centro-sinistra e questo potrebbe anche prefigurare uno scenario di governo io immagino che se una soluzione si troverà sarà affidata a terzi a terze persone non voglio immaginare le riserve della Repubblica? sì sì ci sono ancora delle riserve in questa Repubblica diciamo ci sono quelli come lui che non sono stati nella ma ma invece di parlare di me riserva o effettiva vorrei fare un'osservazione sui tuoi numeri che forse chiarisce qualcosa aiuta a capire meglio è interessante fare il confronto tra i valori assoluti perché impressiona più delle percentuali però c'è anche da dire che e per la ragione del singolo giorno e non anche del lunedì e per una ragione forse anche di disaffezione ulteriore il numero dei votanti è stato più basso quindi un po' di quelle cifre inferiori sì sono dal 75 mi pare insomma due o tre punti due o tre punti percentuali abbiamo detto che il 3% è un milione e cento su quel valore diciamo di riferimento il 72% quindi qualcosa va scavato anche lì rispetto a quello che ha detto il professor Reinis invece ho questa osservazione da fare vero che 5 Stelle era primo partito peraltro col 25 e non col 33 quindi ha ulteriormente incrementato i suoi valori relativi di molto perché da 25 a 33 è un 30% quasi un 20% di quello che era ma le altre forze avevano totalizzato sufficienti seggi per poter governare come di fatto è avvenuto col governo Letta quindi la forza antisistema per eccellenza certo 10% di molti più Forza Italia più il PD che era peraltro unito e non più separato con i post comunisti giustizialisti possiamo definire così dei liberi uguali meno la mia visione visto che sono governati anche da un ex magistrato e sono rappresentanti di quella storia ecco oggi invece la differenza è una maggiore diciamo complicazione del quadro forse affidare alla politica politicata diciamo quella che riesce a fare i compromessi e anche a indirizzare duttile nei comportamenti ecco ma rigida nei principi come deve essere il valore di riferimento ecco questo lavoro che non deve fare solo Mattarella ma anche altri è più complicato perché i numeri il pallottogliere diciamo dei voti che danno la maggioranza al governo o fanno le leggi è scombinato perché non so i dati ultimi leggevo prima che forse con gli uninominali si può pensare che la destra aggregata e con le vittorie al nord si avvicini alla maggioranza assoluta nei due rami di Parlamento però mi sembra che ci siano ancora dei divari troppo significativi le differenze per fare scouting 50 voti alla Camera e 25 al Senato 50 forse sì un verdini della situazione o qualche altro più bravo non so più competente o con una funzionalità più ampia che non l'interesse diretto al singolo deputato insomma qualche elemento di motivazione in più può essere svolto ma se sono questi i numeri obiettivamente credo che sia difficile che la legislatura tu però invece prima mi hai fatto intravedere che hai idea che forse un accordo si potrebbe fare a sinistra cioè che PD l'EU come si chiama Libri Uguali e 5 Stelle potrebbero trovare un accordo mi sembra difficile con Renzi che al di là del controllo del partito come segretario da cui adesso si è dimesso rimane però il portatore dell'80-90% dei parlamentari che sono roba che ha scelto lui quindi mi sembra difficile che lui ha già detto vado all'opposizione se ne frega ma si è dimesso poco fa si è dimesso ma si è dimesso da segretario del partito ma quello che conta sono i gruppi parlamentari no? si cioè io non lo so se tu sei convinto che sia una strada praticabile Flaiano diceva che gli italiani corrono sempre in soccorso del vincitore il che significa che si allontanano da chi perde adesso io non so dire è una delle ipotesi sul piano dei numeri possibile un'altra ipotesi possibile è la Lega con i 5 Stelle certamente non è possibile la larga intesa da Forza Italia di cui si parlava prima io credo però che se la situazione si avvitasse intanto immagino che in prima battuta noi avremo degli elementi di informazione e il capo dello Stato avrà degli elementi di informazione dalla elezione del Presidente del Senato perché alla quarta votazione il Senato avrà un Presidente perché c'è il balottaggio tra i primi due e quindi lì qualcuno andrà a dirigere il Senato questo qualcuno potrà se le forze politiche nel frattempo non hanno maturato una intesa quali che siano le forze politiche potrà fare l'esploratore potrà avere un preincarico come lo ebbe Bersani potrà avere un incarico pieno insomma certamente diventa una personalità utile nel disbrigo di questa crisi e se invece neanche questa cosa riuscisse tu parlavi delle riserve della Repubblica insomma io immagino noi adesso abbiamo un migliaio di parlamentari neo eletti non credo che alcuno di loro abbia voglia di tornare diciamo a casa ripetere la campagna elettorale diciamo la governabilità alla fine e anche si misura anche su queste cose allora se il presidente Mattarella a un certo punto chiamasse una riserva un Monti magari più politico no? perché in questo momento un tecnico dico io un nome Giuliano Amato per esempio mamma mia ho detto un nome che corrisponde all'identikit non mi ha detto che vi deve piacere largo ai giovani autorevole finché si vuole ho detto un nome che corrisponde all'identikit allora è questo qualcuno formasse una squadra di ministri che si presenta per ottenere la fiducia magari con un con un orizzonte limitato a riscrivere la legge elettorale non so che altro poi i governi di scopo di pochi mesi in Italia durano anni dicendo al Parlamento o lo votate o comunque io sciolgo ecco quel governo avrebbe ottime chance di ricevere la fiducia senti questo sono d'accordo cioè un governo di scopo per una finalità a breve termine per ridisegnare il quadro potrebbe funzionare ma non lo vedo un governo di legislatura io il governo di legislatura da questo risultato mi pare che siano esclusi qualunque penso più che per una cosa così ristretta alla nuova legge elettorale eventualmente ad approvare la finanziaria prossima sia più probabile più praticabile l'idea di rimandare alle camere gentiloni con sostanzialmente una no sfiducia astensioni eccetera eccetera per tirare avanti per un po' di mesi quello che tu prefiguravi è un governo del presidente o di un nome indicato dal presidente che teoricamente dovrebbe essere aperto a tutte le forze politiche e lì diciamo non potrà ridurare la legislatura ma però ancora non è eletto dal Parlamento cioè è eletto dal Parlamento come governo ma non membro del Parlamento è un altro argomento che potrebbe suscitare un po' di riserve no? perché ne abbiamo avuti altri lo stesso Renzi però io ti volevo fare un ti volevo fare un ragionamento tu che tendenzialmente poi il fatto che hai rivelato di aver votato la Bonino mi sembra che sia indicativo tu che saresti stato sicuramente disponibile ad una ad un soggetto non centrista ma centrale diciamo come può essere stato nel bene o nel male la formazione di Monti secondo te il fatto che non ci fosse nell'offerta politica questa cosa quanto ha pesato e perché la Bonino anziché andarsi a parentare con un virgolette perdente non si è messa per conto proprio io credo che avrebbe preso un sacco di voti e personalmente l'ho pubblicamente suggerita questa cosa non sono sicuro che l'apparentamento con Tabacci le abbia nuociuto se non altro per il fatto di potersi no con Tabacci l'apparentamento con Correnzi a sinistra dice Auton cioè presentarsi per conto suo se diciamo l'aggregato centrale non centrista mi piace che tu abbia usato questo aggettivo perché quando ahimè ho fatto l'esperienza sciagurata per come è andata di scelta poi sciolta civica era quello che dicevo anch'io non siamo centristi ma vogliamo essere centrali eccetera dicevo se si fosse aggregato un quadro d'insieme che potesse mettere in comune paradossalmente le forze riformiste socialiste liberali cattoliche e anche radicali ma che non sono berlusconiane non sono di destra non sono sovraniste beh forse un esito vicino a quello di Monti che fu importante perché il 10% di un partito nuovo improvvisato composito è stato un risultato brillante rappresentato dal presidente del consiglio in carica che allora era molto più popolare di come è stato in seguito sarebbe stata un'opportunità ma non è andata così e posso se volete citare un episodio che riguarda la vicenda Parisi Parisi è stato cancellato dallo schieramento e poi va bene gli è stato affidato un compito un po' così diciamo di testimone di martire perché non credo che vinca la regione Lazio magari avvicina diciamo il punteggio però non arriva al punto i tre i tre uninominali che gli sono stati dati quali indennizzo della cancellazione della lista credo che non siano stati eletti non posso sbagliarmi ma i numeri sono questi mentre c'era stato un momento magico in cui avrebbe potuto mettersi insieme a Cesa inizialmente per poi richiamare anche quelli che chiamo i sette nani cioè i sette leader dei piccoli partiti che l'hanno fatto l'uno e mezzo per cento con però lui come portavoce quindi un'espressione di una personalità nuova alla politica ma esperta che avrebbe potuto raccogliere forse qualche spazio in più di quello che si è riusciti a fare ecco quella forza è mancata e forse sarebbe stato un elemento liberatore sentiamo perché secondo te è mancato un soggetto che una quarta gamba diciamo di quella tripolarità di cui hai accennato prima non c'era spazio o non sono tempi io non saprei perché parlavate poco fa di Emma Bonino che ha una storia però chi ha vinto le elezioni i due ragazzi sono Salvini e Di Maio perché c'è a torto ragione un rifiuto dell'establishment di cui anche la Bonino fa parte e questo la faccia di Di Maio era due Trump giovani tra la camicia bianca e la cravatta azzurra insomma sembrava proprio voler dire guarda che sono establishment pure io no guarda io non saprei qui nessuno ha una però io vorrei vedere il bicchiere mezzo pieno cioè anche diceva il senatore Albertini però hanno votato meno della volta scorsa ma pochi mesi fa ha votato il 46% alle comunali quindi in un trend di crescente astensionismo questa battuta elettorale e chissà forse perché c'è una legge che è sostanzialmente proporzionale che consente a ciascuno di riflettersi insomma forse sarebbe stato meglio se fosse stata tutta proporzionale anch'io credo anche io credo suggerici per il cambiamento prossimo e poi un altro elemento solo questa battuta un altro elemento che in fondo connota una democrazia in salute è che chi è opposizione nella legislatura precedente diventa forza di governo ora l'opposizione erano i 5 stelle la volta scorsa e adesso sono il maggiore partito la volta prima ancora il PD diventa con il premio di maggioranza il partito più grosso uscendo da una stagione di opposizione cioè in tutte le ultime legislature è stato premiato alle elezioni il partito che connotava l'opposizione nella legislatura precedente e questo va bene concludiamo questa chiacchierata dicendo perché dovete leggere questo libro in una battuta visto che siamo già fuori tempo massimo perché dovremmo leggere un romanzo di un costituzionalista per il titolo l'autore sempre il meno indicato io però penso al di là se ha o non ha delle qualità questa cosa i tre lettori che lo prendono in mano lo diranno loro però ho sempre pensato da quando ero ragazzo che la letteratura e l'arte in genere e nell'arte la letteratura che si avvale non dei segni ma delle parole quelle che usiamo per comunicare ha uno statuto superiore a tutte le altre forme di conoscenza perché viaggia per metafore perché ha un linguaggio obliquo indiretto che acchiappia più cose che esprime più che racconta più cose in questo libro c'è il racconto di un viaggio c'è la Sicilia usata come metafora di un inabissamento che forse ha a che fare anche con quello che accade nella nostra società ci sono miti che riguardano lo stretto di Messina però la metafora io credo che sia preferibile al linguaggio diretto che può ma se lo leggo capisco perché Di Maia ha fatto il pieno no ma è importante grazie a Capire che faccia ridere grazie a Capire Albertini Michele Ailis di essere stati con noi state con noi diamo una mano al P con la pubblicità tra poco con la terza parte grazie ciao grazie bentornati a Roma incontra allora continuiamo nell'esame del voto delle sue conseguenze con altri due ospiti interlocutori importanti uno è giornalista ex parlamentare analista delle vicende politiche Augusto Minzolini bentornato grazie e l'altro è sociologo professore merito di sociologia del lavoro alla sapienza di Roma Domenico De Masi allora De Masi tu eri stato indicato come il guru dei 5 stelle che pensavi per loro che dovevi essere il ministro plenipotenziario presidente del consiglio dei 5 stelle non sei neanche nel governo ombra com'è sta cosa era tutto falso o hai cambiato idea o non hai cambiato idea sono stato consigliere mi pare che i consigli siano stati buoni i risultati quantomeno abitando io a pochi passi dal senato e dalla camera l'idea di scendere di casa attraversare piazza Navona andare in ufficio diciamo così e prendere 15.000 euro al mese poteva essere naturalmente però non ti sei candidato assolutamente no perché faccio un intellettuale l'ho detto sempre insomma anche alle persone che avrebbero dovuto decidere mi ha colpito il fatto che diciamo adesso i dati ancora super dettagliati non ci sono ma insomma sembrerebbe che non ci sia stato nessun effetto raggi negativo sulle politiche a Roma certo ma tu pensi che che sia come dire una prevenzione nei confronti della raggi quello che si dice di male ma io faccio il sociologo e la cosa che mi è interessato di più in tutto questo questa campagna elettorale è stata le varie narrazioni che sono state fatte dai vari protagonisti di storytelling come si dice sì come dire tanti scespiri diciamo molto scespirini scespirini personaggetti diciamo teatrali ognuno dei quali ha raccontato un'Italia che non esisteva e gli ascoltatori a casa avevano nella casa la dimostrazione che stavano sentendo delle balle per esempio io ho sentito in una sera un ministro che ha detto che si erano creati un milione di posti di lavoro 20 minuti dopo un altro ministro che ha detto un milione e due e poi mi pare del Rio che ha detto un milione e quattro chi offre di più in un telegiornale sono stati creati 400 mila posti di lavoro sapete è piuttosto difficile diciamo in una notte Roosevelt creò 4 milioni di posti di lavoro durante il New Deal ma insomma quella fu una cosa eccezionale allora secondo me la differenza abissale tra la narrazione che hanno fatto alcuni politici e la realtà per esempio Renzi ha detto più volte che i Cinque Stelle sono estremisti ora gli italiani hanno vissuto l'estremismo sanno che l'estremismo significava brigate rosse che sparavano per strada e quando hanno chiesto a Renzi ma perché estremisti perché non sono del tutto convinti sui vaccini beh a me mi pare che un estremista non si non si computi sulla base dei vaccini non è che Lenin era estremista perché era contrario ai vaccini diciamo c'era c'era ben altro allora questa è stata una situazione straordinaria che mai secondo me c'era stata una narrazione così truffaldina proprio truffaldina io credo che abbia vinto Cinque Stelle anche perché ha un leader composto che non urla mai è un ragazzo meridionale di 31 anni che a 27 anni è diventato Presidente della Camera che in 4 anni ha gestito Vice Presidente Vice Presidente della Camera ma ha dovuto fare molto che in questi 4 anni ha gestito la Vice Presidenza senza dare appiglio a nessuna a nessuna ma ce l'abbiamo quella cosa che credo che la ricchezza di Di Maio sia stato il congiuntivo ecco perché ho visto una roba che diceva la ricchezza di ecco dice uno ha giurato sul Vangelo l'altro sul il suo vocabolario è stato il congiuntivo perché non so se è vero che ha sbagliato un congiuntivo più di uno mi ricordo che una sera a Ballarò c'erano 4 grandi giornalisti che lo intervistavano avranno sbagliato anche loro sicuramente ho condato 18 congiuntivi sbagliati da parte di questi 4 grandi conoscitori della lingua italiana comunque il fatto di aver sbagliato il congiuntivo se è vero e comunque anche se non è vero è stata una fortuna enorme perché il racconto contrario è che si trattava di un cretino bambino incapace che gestiva un partito fatto di incapaci eccetera eccetera questa narrazione è andata avanti anche oggi cioè qua anche se uno piglia il 100% resta sempre cretino nell'ottica credo che la situazione più significativa è stata quella di Napoli dove un personaggio secondo me sempre più triviale come il governatore che ha avuto sempre nei confronti di Di Maio un disprezzo enorme ha avuto praticamente il figlio non eletto già il fatto di avere due figli in politica nella stessa regione la dice lunga nel sud e ha avuto il figlio non eletto e il 50% di votanti per i 5 stelle abbiamo capito che De Masi non faceva parte del governo Ombra ma insomma è contento che i 5 stelle io ho votato i 5 stelle e beh questo avevamo capito dopo le tue parole ma ha votato il 32% d'Italia anche Mussolini e Hitler ebbero delle grandi consensi ma che c'è troppo questo esempio no faccio per dire che non sempre i consensi sono ben riposti solo per il fatto che sono consensi il parallelo non è degno di te no no senti invece io volevo che tu mi aiutassi a leggere un attimo la sconfitta del PD secondo te è tutto è solo colpa di Renzi del giglio magico del suo modo di essere perché poi dopo anche altri hanno preso delle belle legnate cominciare per esempio da uno che poteva apparire come un personaggio in ascesa come Miniti che nella sua competizione uninominale ha preso una bella legnata ma sai lì c'è un problema secondo me che è purtroppo europeo di una ridefinizione dell'identità della sinistra cioè dico se noi andiamo a vedere non è che qui abbiamo come avvertite quando mettete se no sembra che ridevano di Mizzolini che ho detto dicevo che non sapeva se farsi carico positivamente dalla risata dice ammazza come altrimenti ho detto una capovata grossa come una casa stavo dicendo che il problema non riguarda la sinistra italiana riguarda un po' la sinistra europea perché tu vedi tutte le ultime tornate elettorali in Germania in Francia addirittura il partito socialista è quasi scomparso c'è una crisi profonda ma a parte questo è chiaro che lì dobbiamo mettere due cose prima cosa è che il PD si è fatto carico di cinque anni di governo e probabilmente su questo sono d'accordo con Renzi ha talmente tirato questa legislatura come succede molto spesso è andato a votare nel momento peggiore lui stasera ha dato la colpa a Mantarella dicendo bisogna andare a votare prima ma questo è vero però nel senso che lui ha tentato ha tentato molto spesso la trattativa sulla legge elettorale è stata fatta anche sulla data ma non è che si va a votare quando conviene no questo sono d'accordo però possiamo anche dire che quando tu hai una legislatura cioè una legislatura se ha qualcosa da dire continua se non ha nulla da dire non continua io francamente sono stato in Parlamento in questi cinque anni era un Parlamento che poteva tranquillamente esaurirsi tre anni prima due anni prima diciamoci la verità perché questo è un dato mi sembra che è assolutamente chiaro questo qui quindi lui lo ha pagato la seconda cosa che ha pagato e che ha portato a una ha cambiato pelle quel partito noi continuiamo a parlare del PD ma in realtà il PD è il partito di Renzi se tu vai a vedere oggi lui si dimette ma contemporaneamente dice che gestirà la crisi che significa che è una dimissione ma anche perché è difficile in quel partito immaginare un'alternativa a Renzi e anche una politica diversa perché se noi andiamo a vedere l'alternativa a Renzi era quella di libero e uguali non c'è più è tre punte e mezzo solo che quel mondo lì proprio perché si deve redefinire proprio perché di fatto è tutto su un personaggio e basta su un'organizzazione non ha ancora diciamo non sa quello che deve dire al paese ma non pensi che a proposito di tempi giusti e sbagliati il tempo giusto per Renzi sarebbe stato quello di uscire anziché andare a cercare la segreteria del PD di uscire nel momento in cui la curva era alta l'europea eccetera e farsi il partito che forse adesso sarà costretto a farsi ma io sono d'accordo con te sono d'accordo con te più modesto secondo me l'alternativa lì sarebbe stata ancora diversa sarebbe il momento in cui tu fai una legge una legislatura e la punti tutta sulla riforma il momento che non fa la riforma vai a votare scusami era talmente chiaro tu sei arrivato lì hai fatto una proposta o magari vai a casa che è un'altra ma andare a casa sai andare a casa poi se noi andiamo a vedere il governo Gentiloni cioè tu non è che gli riesci a dare una caratteristica cioè qual è noi ne parliamo bene diciamo che Gentiloni è una bravissima persona è una persona gentile poi se noi dobbiamo andare a vedere qual è se noi andiamo a vedere qual è la caratteristica di quel governo e questo l'hanno pagato però vedi le caratterizzazioni a proposito di storytelling le caratterizzazioni così forti di Renzi ha fatto sì che un uomo politico diciamo non particolarmente brillante che diciamo ha qualità più gestionali che non di carisma eccetera diventasse per il fatto di essere caratterialmente opposto a Renzi quindi però il vero problema stiamo parlando delle percezioni diciamo qui sembra una deformazione sociologica però il vero problema è la base di riferimento di un partito cioè chi vota chi praticamente la grande spaccatura ormai a livello europeo e perciò dobbiamo vedere a livello europeo ma anche ci metto pure l'America perché la base è uguale è che abbiamo un modello di tipo socio-economico che comporta automaticamente la crescita della forbice tra ricchi e poveri nel 2007 in Italia cioè all'inizio della crisi dieci famiglie avevano la ricchezza di tre milioni e mezzo di italiani oggi dopo tre governi di sinistra le stesse dieci famiglie hanno la ricchezza di sei milioni e mezzo di italiani cioè i poveri sono raddoppiati e la ricchezza di queste famiglie è raddoppiata poi ci sono tutte le altre famiglie allora il vero problema oggi e da oggi in poi nel mondo è non la produzione noi siamo capaci di produrre abbiamo tutti i frigoriferi di cui la metà della roba che c'è dentro la getteremo abbiamo la capacità di produrre ma non quella di distribuire e mentre il comunismo sapeva distribuire ma non sapeva produrre noi sappiamo produrre ma non sappiamo distribuire questo è un criterio terribile e man mano si acuiranno i conflitti fin quando non andrà al governo né in Europa a livello europeo qualcuno che sia capace di ridurre i rapporti così distanziati tra ricchi e poveri altrimenti si finisce in conflitti epocali e questo naturalmente la gente lo sente io trovo che il risultato in Italia a prescindere adesso dai partiti e dalle sigle di cosa faranno eccetera è che comunque si sta creando una massa di persone che rifiuta la politica e sono quelli che non mutano e il non muto non significa più la pigrizia di chi si scoccia si scoccia la mattina no di chi ha schifo di tutto il sistema e poi c'è una massa crescente di persone che vota dove pensa che ne possa venire comunque qualcosa che riduca il rapporto così squilibrato tra ricchi e poveri questa è la situazione però per riequilibrare tutto questo bisogna tener conto del fatto che l'idea socio-economica che porta alle differenze sociali così squilibrate è un'idea che ha impiegato 150 anni per consolidarsi con grandi cervelli da Smith a Von Hayek quindi è una cosa straordinaria e quando è entrata in crisi all'epoca di Keynes si è saputo rigenerare creando un neoliberismo molto più moderno del liberismo dall'altra parte invece il marxismo non ha mai creato un neomarxismo per cui oggi proprio quella parte sociale che avrebbe bisogno di compattarsi in un partito che faccia ridurre le distanze è assolutamente privo di un modello di riferimento teorico e qui la colpa è degli intellettuali perché gli intellettuali per esempio all'epoca di Togliatti erano compatti con il PC il PC aveva una rivista che si chiamava Rinascita la ricorderanno che era straordinaria oggi questa assenza totale di modello di riferimento fa sì che c'è la massa che ormai dice non ce la faccio più a stare nei vecchi schemi però non c'è un modello di riferimento io credo per esempio che per quanto riguarda i 5 Stelle questo è un problema serio io ho fatto per loro tre ricerche perché loro hanno fatto la cosa interessante è che di come agisce il Movimento 5 Stelle non si è interessato nessuno credo di essere l'unico intellettuale incuriosito da queste persone e cercare di capire loro cosa hanno fatto hanno fatto delle ricerche hanno commissionato delle ricerche a persone neutre assolutamente da queste ricerche che sono state fatte sono stati ricavati dei punti che sono stati messi sulla piattaforma e questi punti i più votati dei punti scelti dagli esperti sono diventati l'argomento la materia di governo quindi c'è una scientificità non è che questi 32% si è preso mentre gli altri facevano chiacchiere e dicevano che questi sono incapaci sono incompetenti sono ignoranti sbagliano i congiuntivi questi invece usavano i sistemi moderni oltre al fatto che usano una piattaforma cioè oggi usare i social media è una cosa due sole forze in questa elezione hanno usato bene Berlusconi devo dire ha creato una piattaforma strepitosa non gli è andata tanto bene non gli è andata bene però gli poteva andare molto peggio a proposito fammi il tempo sta chiudendo fammi chiedere a Mizzolini invece la tua valutazione dopo averla fatta sulla sinistra e farla sulla destra tu ti aspettavi che alla fine sarebbe risultato in maniera anche significativa a 4 punti percentuali più avanti Salvini rispetto a Berlusconi il ritorno di Berlusconi lo immaginavi diciamo non dico fallimentare ma certamente io guarda adesso l'ho pure scritto io me lo aspettavo te lo dico che era un po' nell'aria si l'avevi fatto già capire in una trasmissione gli errori nascono da una cosa intanto da quel tipo di legge elettorale una legge in cui diciamo c'è una importanza diciamo del territorio della concentrazione che quindi in ogni caso anche in maniera subliminale ha consegnato la golden share di quella coalizione alla Lega in ogni caso anche se tu eri candidato dovevi ringraziare la Lega per essere candidato nei posti diciamo cruciali questa è la prima cosa la seconda cosa è che si è trovata a dover fare una campagna elettorale che aveva dei tempi che non erano cadenzati da lui perché è dovuto fare prima una sorta di primarie perché bisognava fare il sondaggio su cui erano decise le diverse candidature e poi ce n'era un altro per cui è dovuto fare una lunghissima campagna elettorale che l'ha portato diciamo anche a saturare diciamo il rapporto con l'opinione pubblica la terza cosa c'è un problema lì io ti faccio un esempio molto chiaro la Lega hai diciamo una serie di candidature che c'era una sul territorio e basta lì avevi invece addirittura un gruppo dirigente che dovevi garantire che è rappresentato diciamo la stessa persona in cinque collegi se tu fai una cosa di questo tipo è evidente che crei un meccanismo perverso perché sarà solo una persona a tirare diciamo la campagna gli altri quattro perché non si sentono non lo faranno e contemporaneamente hai creato un meccanismo per cui chi non ha trovato posto lì si è rivolto alla Lega quindi era io guarda fin da quando è stata fatta questa legge elettorale l'ho trovata assolutamente credo che Gianni Letta gliel'abbia spiegata Berlusconi ma forse ho parlato al vento senti ma domanda finale per tutte e due voi la vedete la prospettiva di mettere insieme tu politicamente conoscendo diciamo i percorsi politico parlamentari tu dal punto di vista più programmatico l'idea è che si possono mettere insieme Cinque Stelle e Lega che nella combinazione dei numeri è una delle poche che avrebbe i numeri diciamo per avere la maggioranza Camera e Senato cominciamo da te ma sempre sulla base della base di riferimento la base di riferimento della Lega è il nord parliamoci chiaro è la parte ricca del paese Napoli ha un prodotto interno lordo pro capita che è giusto la metà di Milano quindi i due voti non sono commensurabili Cinque Stelle invece è proprio l'opposto ha come base di riferimento le periferie urbane ha come base di riferimento i disoccupati ha come base di riferimento gli svantaggiati quindi credo che se si fa caso alle basi di riferimento questi due punti sono devo dire che per esempio Renzi però rispetto l'Europa l'euro la legge Fornero il Job Act non ci sono due cose in cui la pensano in modo uguale al contrario di quella che è stata la narrazione perché è convenuto a tutti dire che sono uguali solo sull'Europa dai quell'idea però in realtà se tu vedi Renzi si ma ci siamo capiti sempre su questo è stata fatta un'azione scellerata di mettere i Cinque Stelle in braccio alla Lega laddove Renzi ma era contro tutta la sua avrebbe dovuto fare l'opposto cioè preparare un partito eventualmente a fare il governo con la Lega ora con Cinque Stelle ora qual è la situazione quella che diceva Annes prima cioè ha creato un partito talmente proprio contrario a una specie di Scalfari quando dice voterei più Berlusconi che Cinque Stelle vedi che hai fatto la craggio cioè io credo che tra i due mondi ci sia una diversità enorme e credo che Cinque Stelle farebbe un errore enorme perché in questo momento se ci pensate Cinque Stelle è l'unico antagonista di quell'altra parte quindi il bipartidismo il bipartidismo ormai c'è con i numeri che ha non va al governo da solo io pure penso che non semmai guarda in passato diciamo nei mesi scorsi queste ipotesi Salvini l'ha agitata forse la citerà ancora come il secondo forno ma quello che gli serve questa ipotesi alternativa è quello di radicare la sua leadership nel centro-destra cioè lanciare fino in fondo l'OPA lui non è più il leader della Lega è il leader della destra italiana noi dobbiamo partire da questo concetto qui perché altrimenti non lo capiamo e quindi posso dire una cosa un partito del 18 del 17% non può fare un governo con un partito del 32% perché entra dalla porta di servizio la storia però insegna che si fanno anche con numeri minori ma quindi secondo te la combinazione conoscendo la dinamica della politica italiana la combinazione che potrà in qualche modo essere messa in campo da Mattarella qual è? guarda io ti faccio un esempio bisogna vedere chi tra i due vuole veramente andare al governo però se tu vuoi fare un'operazione del genere più Di Maio che Salvini no io ti dico parto da un presupposto che chi lo fa è quello tra i due candidati per lui Di Maio e Salvini è disposto a sacrificare la sua premiership cioè è disposto a non andare a Palazzo Chigi perché tu devi rompere diciamo una coalizione devi rompere il PD perché poi c'è sempre il terzo incomodo perché senza quel terzo incomodo e devi creare un meccanismo per cui si crea la possibilità di una maggioranza se Salvini si accontenta di diventare il leader del centro-destra ma contemporaneamente dà la possibilità che un'altra personalità più moderata possiamo dire potrebbe essere quella la strada che porta una parte o tutto il PD a collaborare o altrimenti la stessa cosa dovrebbe farla i 5 Stelle ma lì è più complicato perché io sono d'accordo con Heinz c'è ormai una tale nel senso il rapporto che c'è tra il PD e 5 Stelle di chi pensa che quel ruolo gli è stato rubato che quell'elettorato gli è stato rubato per cui diventa competizione però c'è un auspicio che faccio io e cioè che i 5 Stelle vadano all'opposizione siano il più grande partito d'opposizione d'Europa e facciano quello che fece Berlinguer a suo tempo cioè ottenne lo statuto del lavoratore ottenne la sanità eccetera stando all'opposizione perché una forte opposizione del 32% è come stare al governo senza avere le rogne vedi il paradosso è questo che chi ha vinto nessuno dei due vuole andare al governo bene grazie a Augusto Minzolini e a Domenico De Masi di essere stati con noi a fra poco per la quarta e ultima parte di Roma in Contra grazie ben tornati a Roma in Contra ultima parte con altri due ospiti graditissimi che ritornano su questo palco che ci sono già stati diverse volte uno è lo scrittore storico della musica e autore di un bellissimo libro che vi raccomando per Marsiglio che si chiama Al canto degli animali i nostri fratelli e i loro sentimenti in musica e in poesia che è Paolo Isotta benvenuto ciao Enrico grazie accomodati qua e poi lo scrittore editorialista e autore per Rubettino di un libro che si chiama Ricostituente la potenza commerciale e l'impotenza istituzionale Davide Giacalone eccoci ben trovato ciao allora immagino che fremessi mentre sentivi De Masi fremevo mentre sentivo De Masi ma soprattutto io mi ero illuso che il libro di Isotta fosse un commento alle ultime lezioni invece no il canto degli animali non è non è pertinente anche perché non parla bene degli animali non li considera nella condizione negativa ma so che tu sei particolarmente l'hai scritto l'hai detto in queste ore particolarmente deluso del voto e di come vanno le cose spiegaci perché ma non è che sono deluso del voto il voto è quello che gli elettori i cittadini hanno voluto votare ed è giusto ed è giusto che sia così bisogna intanto non perdersi nei particolari di casa propria perché il nostro poi è un paese di grandi odiatori è talmente diffuso l'odio fino al tedio per cui tutti hanno un motivo di soddisfazione soprattutto fra gli sconfitti hai visto ha perso tizio così impara quello questa forma se la guardi un po' più da lontano c'è un fenomeno collettivo devo dire che in due situazioni di voto ho peccato anch'io tu sei fra quelli ma se tu guardi un po' più da lontano da tempo l'elettorato tradizionalmente di sinistra in Europa si indirizza verso forme politiche verso contenitori che sono apertamente di destra apertamente di destra questo ha una ragione ma che non può essere semplicemente il fatto che quella classe dirigente fa schifo quell'altro segretario antipatico non può avere una stessa spiegazione in tutte le lingue il tema è diverso e cioè un mondo dove noi abbiamo vinto che si è aperto che è più ricco perché questa gnagnera infinita che sono tutti più poveri è falsa nei numeri però cosa ha creato ha creato che l'enorme crescita di ricchezza nel mondo perché il mondo dopo la fine della guerra fredda è diventato molto più ricco ha creato una maggiore disparità e maggiore paura tra quelli che erano già ricchi e tra quelli che erano già ricchi l'abitudine consolidata a pensare che la spesa pubblica debba servire a mantenermi e quindi finiscono con l'aprire successo forze politiche che hanno un'impronta di destra ma voglio dire non è necessariamente quello forze politiche che promettono agli elettori come si è promesso nell'ultima campagna elettorale a cura sostanzialmente di tutti più spesa pubblica meno pressione fiscale è all'evidenza una bischerata cosmica non è possibile non ci riuscirà nessuno però a questa promessa gli elettori hanno dato seguito come la vedo io gli elettori hanno votato adesso non è che possono pretendere di cambiare gli elettori tocca alle forze politiche il Movimento 5 Stelle è il primo partito la Lega ha avuto il secondo grande successo anzi come dice Salvini è cresciuta più del Movimento 5 Stelle hanno piattaforme politiche non incompatibili e adesso ci fanno vedere come si fa ad avere più spesa pubblica con meno pressione fiscale si assumono le loro responsabilità naturalmente sarà impossibile emergerà che trattasi di una truffa affabulatoria e gli altri il pubblico se ne farà una ragione intanto sono curioso io naturalmente non domandare è lecito rispondere cortesia ma anche non rispondere ugualmente cortesia ti rispondo subito ho votato Bonino pure tu siamo in tanti che abbiamo votato Bonino ma non ha superato questo maledetto 3% però vi conoscete tutti eh sì ci conosciamo faremo faremo così un incontro di noi Boniniani hai votato Bonino perché? innanzitutto perché io sono iscritto al partito radicale questo è vero e poi perché? però non so quanti radicali iscritti al partito l'abbiamo votata perché c'era un po' di divisione interna c'è anche c'è anche una diatriba interna questo questo sì ma perché a me sembra io mi ricordo che circa 20 anni fa fece anche parte di quel movimento che la voleva indicare per la presidenza della Repubblica e sarebbe stata una cosa molto bella io credo che un un politico di quella esperienza di quella lungimiranza e anche di quel coraggio di essere antidemagogo come la Bonino meriti un suffragio enorme e qui colgo subito l'occasione per dire che gli argomenti della Bonino li ho sentiti riecheggiati adesso da Davide Giacalone con il quale sono assolutamente d'accordo e nonostante tu abbia dato questo voto assolutamente minoritario sei soddisfatto o insoddisfatto dei risultati e soprattutto delle conseguenze che puoi immaginare che ci siano del voto le conseguenze mi spaventano mi spaventano dico subito comincio dalla fine mi spaventano perché a me sembra che il voto dato ai 5 stelle sia un voto dato a una forza antidemocratica non sono d'accordo con gli illustri predecessori e anche con il professor Pasquino che era più ottimista e io mi auguro che abbia ragione ma noi sappiamo che si tratta di una forza politica non limpida che si basa sopra uno statuto non democratico ora io credo che siano stati votati da una massa di popolo di cui bisogna comprendere le motivazioni e le motivazioni soprattutto nel sud sono che si tratta di giovani di disoccupati per i quali né Berlusconi né Renzi hanno fatto nulla però è facile illuderli e qui voglio cogliere l'occasione per fare una precisazione io credo che sia un grande errore di cultura chiamare i 5 stelle un movimento populista il populismo è un movimento politico che ha una sua precisa identità storica e a me piace soprattutto ricordare il populismo russo della metà dell'ottocento che ha portato poi alla emancipazione dei servi della gleba e quindi come li chiameresti loro sono dei demagoghi esattamente come il loro omologo napoletano De Magistris pensavo dicessi De Masi perché napoletano De ho detto De Masi ma non è demagogo De Masi è una persona colta intelligente e anche spiritosa debbo dire che forse l'unica cosa positiva del successo dei 5 stelle a Napoli è che hanno completamente prosciugato il bacino di De Magistris da ieri De Magistris politicamente è finito senti anche Isotta poi trova il lato positivo senti ma ha ragione sul fatto che non vadano definiti populisti come li definisci tu? ha perfettamente ragione questa cosa di populisti ha stufato basta questo è un vocabolo che andrebbe cancellato perché ormai è uno di quei vocaboli che quando lo usi non si capisce cosa tu stia dicendo pensi che tutti lo sappiano ma in realtà il populismo russo è tutta altra quercenda queste sono forze che puntano sull'impaurimento di una popolazione la cui ricchezza è enormemente cresciuta e che temono di perdere questo vantaggio negli anni 70 gli italiani mediamente però questo sarebbe più vero se avessero preso i voti al nord che al sud attenzione attenzione anche al sud anche al sud perché noi avevamo negli anni 70 un patrimonio medio che era considerato calcolabile in tre anni di reddito oggi come la Germania oggi in Germania il patrimonio medio di case abitazioni è sei volte sei anni di lavoro in Italia è nove cioè noi siamo molto più arricchiti in questo periodo le nostre esportazioni la nostra ricchezza grazie all'euro è enormemente più alta però ci si è messi paura e quindi ci sono speculatori sulla paura qual è il problema ma perché allora perché si mettano d'accordo le forze populiste Salvini dice io sono orgogliosamente populista perché ha capito l'equivoco e quindi lo cavalca il tema è la costituzione sia elettorale perché il Movimento 5 Stelle sbanca al sud perché dice siccome hanno rubato sono disgraziati i soldi li hanno presi erano vostri li sono portati via la classe politica la casta adesso arriviamo noi e vi ridiamo i soldi voi non dovete fare niente non dovete lavorare non dovete studiare non dovete far vivere vi ridiamo i soldi Salvini fa il pieno al nord su gente che dice non intendiamo più dare un centesimo a questi disgraziati che prendono i soldi senza fare niente le due cose si avvicinano e sovrappongono ma sono dal punto di vista della costituzione sociale sostanzialmente antitetiche ma speculano sulla stessa cosa allora questa è una malattia profonda è una malattia pericolosa non devi continuare a cercare di scantonarla devi affrontarla e affrontarla significa portarvi a fare i conti con le cose che hanno raccontato hanno raccontato balle ma balle enormi non è pensabile che una forza politica dica sei mesi prima facciamo un referendum sull'euro e sei mesi dopo non ci sono le condizioni forse non lo facciamo Salvini aveva nel simbolo no euro e adesso dice l'Europa non si spaventi ma esiste un limite al trasformismo all'essere affabulatori al dire bugie le hanno fatto hanno vinto le elezioni le hanno vinte Enrico sostanzialmente perché i loro antagonisti principali cioè Berlusconi e Renzi li hanno inseguito dicendo le stesse minchionerie cioè sono loro che li hanno spianato il terreno anziché dire ragazzi fermi qua ci sono numeri diversi noi non possiamo continuare a raccontarci che questo è un paese di miserabili che muoiono tutti di fame perché non è vero non possiamo raccontarci che la nostra agricoltura è penalizzata dall'Unione Europea perché il nostro principale mercato dell'agricoltura dell'Unione Europea dove peraltro facciamo lavorare il maggior numero di immigrati senza quelli si ferma l'agricoltura le possiamo dire queste no li hanno inseguiti sul loro terreno con il risultato che però non li hanno distanziati morale della faura e adesso la bicicletta la pedalano loro sarà costoso sarà doloroso ma è necessario perché se no se uno fa l'ho sentito prima il governo Amato alle prossime elezioni importano grillini e leghisti dall'estero per votare cioè per superare il 100% dei voti e io credo che Giuliano Amato sia uno dei migliori prodotti di quel che rimane della classe dirigente italiana ma il problema di fondo questo Isotta che è uomo di cultura non può non sentirlo profondamente il problema di fondo è che in Germania una classe dirigente ha alzato la testa in Francia una classe dirigente ha alzato la testa da noi il problema non sono quattro politici che hanno perso le elezioni è l'assenza di una classe dirigente l'analfabetismo delle cattedre il pressappotismo del giornalismo il inseguire il consenso anche a dispetto della dignità personale ecco questa roba qua noi la dobbiamo pagare perché se non la paghiamo non ne usciamo più Isotta in termini culturali che cosa è mancato all'establishment alla classe dirigente alla politica che aveva in mano il pallino che fosse quella di centrodestra o quella di centrosinistra che cosa è mancato in termini culturali mi hai fatto una domanda che mi fa molto piacere perché in realtà io constato che tutta la classe politica sia il mondo berlusconiano sia il mondo renziano non voglio neanche parlare dei 5 stelle non abbiano neanche l'idea che l'Italia ha come ricchezza principale la cultura noi abbiamo una tradizione di poesia di arti figurative di architettura di musica che è assolutamente incomparabile non hanno mai capito che bisognava puntare su questo per costruire la nostra identità nazionale noi non abbiamo ancora un ministero della cultura noi abbiamo un ministero che si chiama dei beni culturali nel quale è compreso anche il turismo e in sostanza i nostri monumenti sono considerati una sorta di appendice del mondo turistico noi non siamo capaci di valorizzare faccio un esempio la nostra grande identità culturale nel 2017 c'è stato il bimillenario di Ovidio uno dei più grandi poeti mai vissuti e il bimillenario di Tito Livio che è il più grande storico romano insieme con Tacito da noi non è stato fatto niente da parte di nessuno è facile dire arrivo a questa conclusione un paese il quale non riconosce la propria identità culturale quindi le proprie radici culturali in realtà non sa meritarsi la libertà perché la libertà nasce dalla cultura la cultura rende liberi se mi permetti prima diceva ma cosa deve fare lo diceva il professor Pasquino il giovane siciliano disoccupato ovviamente prima di trovare l'occupazione siamo tutti disoccupati cosa deve fare il giovane napoletano c'è una sola cosa che possiamo trasmettere a tutti per competere e vincere nel mondo perché noi nel mondo vinciamo gli italiani che fanno strada e che vincono nel mondo fuori dall'Italia ecco come i siciliani fuori dalla Sicilia stanno benissimo e fanno cose grandiosi poi torneranno in Sicilia e non riescono a farle un po' questo è il paradosso italiano cosa gli possiamo dare la cultura la cultura la conoscenza gli strumenti quando queste cose sono nelle mani di chi è figlio di quel mondo e di quella storia anche senza saperlo sono armi potentissime ma si può avere un'università che è ancora impiccata al totem del valore legale del titolo di studio in cui si fanno i concorsi per amicizie e parentene ma si può se la prendono se la prendono se la prendono con quello che fa la tesi di laurea copiandola io spero sapete la grande differenza rispetto al passato è che per copiare dovevi battere a macchina almeno l'avevi letto adesso è copia e incolla manco l'hanno letta ma ci si arriva in cattedra col copia e incolla è mai possibile è mai possibile che un'università che ha delle dati fallimentari sulla capacità di trovare il posto di lavoro non possa buttare fuori i propri docenti domandai al rettore dell'università Tongji a Shanghai qual era il tempo dei suoi contratti con i professori mi disse un anno ogni anno alla fine io posso mandare via chiunque domandai professore ma quanti ne ha mandati via nel corso nessuno perché sapendo che li posso buttare fuori stanno bene attenti a quello che combino da noi una volta che hai vinto il concorso a cattedra sei un totale analfabeta a vita ma lo trasmetti agli altri questa è la truffa di qui su certo certo se poi a rimediare questo ci mangi una classe politica che pensa che il congiuntivo sia un'infezione degli occhi che si cura con le gocce allora volevo riprendere il discorso e tornare alla Sicilia che in fondo è un io sono napoletano ma per gli italiani è un punto di partenza e anche un punto di arrivo allora io ho una passione enorme per Pirandello per De Roberto per Capoano per Verga e giungiamo poi a Sciascia e Lampedusa ecco questi che sono insieme con Bufalino gli ultimi due grandi scrittori siciliani di altezza mondiale ci hanno insegnato una cosa loro lo dicono per la Sicilia ma questo vale per l'Italia noi saremmo i primi del mondo se non avessimo due terribili malattie l'invidia reciproca e l'odio per noi stessi è lì la cosa se ti concludiamo con dei ragionamenti più politici tu hai detto hanno vinto adesso s'arrangino però sai che il pallino è nelle mani del capo dello Stato il quale naturalmente deve più ragionevolmente possibile portare a casa un governo perché l'idea di tornare a votare tanto più subito e tanto più con questa stessa legge elettorale ovviamente non è una bella prospettiva se tu fossi un consigliere del del Quirinale che cosa suggeresti di fare al capo dello Stato in questa fase di essere profondamente se stesso e quindi lasciare che le cose si quietino che passi un po' di tempo dopodiché però un calma adesso poi si fanno prima si si insedia il Parlamento si creano i gruppi parlamentari e questa sarà la prima cosa simpatica perché il gruppo misto sarà numerosissimo ci sono i massoni dei 5 Stelle quelli che non hanno pagato l'eretta poi c'è quello che non c'è più il partito l'hanno eletto ma per la miseria dove era il partito che mai eletto quindi questa sarà la prima fase dopodiché al Senato in virtù del regolamento interno eleggeranno un presidente alla quinta votazione alla Camera faranno la quinta la sesta la decima la quindicesima intanto al Quirinale si lascia passare il tempo si lascia quetare poi quando avranno finito questa cosa in qualche modo si faranno le consultazioni a quel punto ci sono tre strade che potranno essere imboccate la prima consiste nel fatto il presidente della Repubblica non darà mandato dovrà fare un corso di diritto costituzionale perché nel mondo diciamo politicamente civilizzato si dava l'incarico esplorativo o l'incarico o pre-incarico però queste cose nella Costituzione non ci sono è una prassi è una prassi per cui se io lo incarico a uno e quello la mattina dopo si presenta dicendo giuro con i miei ministri che fa il Quirinale perché questa sarebbe la Costituzione una volta che c'è l'incarico giuri per evitare questa disgrazia bisognerà porre in qualche modo un argine dicendo giuri dopo che mi hai fatto vedere che c'è una maggioranza quindi ci sarà questo e questa passaggio e dopodiché evidentemente siccome nessuno ha vinto le elezioni perché sia chiaro nessuno ha la maggioranza un governo si fa solo se qualcuno viene meno a quello che ha detto in campagna elettorale questi governi possono essere o un governo se lo fanno le forze più affini e vincitrici delle elezioni cioè il Movimento 5 Stelle e la Lega con le difficoltà che abbiamo visto oppure dopo l'ampio logoramento il Presidente della Repubblica si inventa un governo lo manda alle camere diciamo così al buio ma quello che si chiama governo del Presidente e a quel punto tra quelli che escono e quelli che rimangono per non perdere il seggio perché l'unico elemento diciamo coesivo di questa legislatura sarà insomma tutto sommato io qua ci sono perché me ne devo andare sono un giovane disoccupato voglio dire andarsene da qua è una brutta cosa c'è la famiglia da mantenere e quindi questo prende la maggioranza per fare cosa per fare in fretta la riforma del sistema elettorale e noi parliamo dopo due anni perché in fretta al minimo sono due anni e la terza possibilità che non ci si riesca e se non ci si riesce alla fine la Costituzione è chiara il Presidente della Repubblica dovrà sciogliere il Parlamento e tornare alle elezioni ovviamente con questa legge elettorale spero che l'Italia si risparmi questo ulteriore travaglio intestinale anche perché l'esito temo che sia vagamente simile è del tutto richiamante quelli che sono gli esiti dei travagli intestinali Isotta siccome il tuo libro è un'esegesi del mondo degli animali in una battuta perché non abbiamo più tempo qual è l'animale che tu indicheresti come miglior Presidente del Consiglio? il gatto il gatto da una parte il gatto per la sua intelligenza e per la sua indipendenza di carattere e poi l'altro animale che io amo molto è l'asino perché e qui diciamo è più facile siamo messi bene secondo la vulgata e no perché l'asino è un animale non solo molto intelligente ma che ha si è visto nei casi di cliniche onoterapiche che io conosco molto bene ha la capacità di soffrire insieme con il paziente sono soprattutto i ragazzi affetti da autismo carica il ragazzo di affetto e piano piano comincia a succhiarsi la malattia del ragazzo attirandola su di sé che ha i casi nelle spalle larghe se lo può permettere allora ce ne vorrebbero tanti di asini grazie a Paolo Isotta e a Davide Giacalone grazie a voi di essere stati con noi ci vediamo lunedì prossimo buona settimana post voto grazie grazie a tutti 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 Grazie a tutti.